In diretta con il Presidente Luca Di Masi, innanzitutto complimenti. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Quante emozioni e quale emozioni si trovano in questi stanni? Immensa, immensa. Ti ho aspettato tanti anni, abbiamo fatto grandissime cose, grandissime. Lo siamo questa sera, grandissime. E l'ho convinto, dall'inizio stagione l'ho convinto, ma l'ho abbandonato. Ci ho sempre chiuso, sempre. Al gennaio, sempre, alle play-off, sempre. Alla fine ci abbiamo fatto, lo sapevo, grandi. Se lei ripensa questa stagione, in quale momento ha capito che questa squadra poteva davvero farcela? Poteva farcela, da quest'estate, da quando stavamo costruendola, da quando ho costruito i ragazzi, i ragazzi che c'erano. Potevamo andare avanti, potevamo arrivare fino alla fine. Anche dopo il Como, anche dopo le difficoltà, perché le difficoltà noi le viviamo e ce le portiamo addosso. Dobbiamo superarle e le abbiamo superate. Quindi siamo tutti grandissime. Grande Luca! Una curiosità, l'ha guardato l'ultimo rigore? Sì, sì, l'ho guardato di tutte le rigore, assolutamente, assolutamente, sì. La conclusione perfetta direi, la conclusione perfetta. Per noi grigi l'ha conclusione perfetta. Ringraziamo il Presidente Di Masi e lo lasciamo ai festeggiamenti.